Voglio augurare buon anno a tutti i pordenonesi ricordandovi che stasera si può festeggiare il nuovo anno in piazza 20 settembre. Se infatti il concerto è stato annullato, come sono stati annullati in tutta Italia, ricordo che le casette enogastronomiche sono aperte, quindi fino alle 2 rimangono aperte e si può brindare assieme al nuovo anno. Ricordo anche che in questo periodo di festa è possibile andare a visitare una grandissima mostra in Galleria a Ribertoia in Corso Vittorio a Pordenone dedicata ai grandi maestri del Novecento. In mostra ci sono autori come Picasso, Chagall, De Chirico, Guttuso, Pizzinato, Vedova. Qui a Pordenone, una cresione da non perdere.